La strategia nazionale per fronteggiare l'aumento dei casi di covid sta cambiando in concomitanza con il numero dei contagi che secondo gli esperti è destinato ad aumentare. Dopo il DPCM entrato in vigore due giorni fa, che tra le altre cose impone la mascherina obbligatoria anche all'aperto sempre e per tutti e multe pesanti ai no mask, è molto probabile che nei prossimi giorni arrivi un nuovo DPCM entro la fine di ottobre. Si rende necessario dopo l'impennata di nuovi casi registrati ieri 4.458 a livello nazionale. La strategia attuale però cambia rispetto a qualche mese fa. Saranno le singole regioni a stabilire quali provvedimenti prendere a livello locale, magari creando delle piccole zone arancioni o addirittura rosse. Questo per poter lasciare aperte le attività del paese senza dover ricorrere ad un secondo lockdown generale che sarebbe impossibile da sopportare. Allora saranno benvenute le chiusure dei confini regionali per cercare di fermare l'escalation dei contagi. Ieri il boom è stato in Campania, 757. Purtroppo non tutti asintomatici. Salgono infatti anche i ricoveri di pazienti gravi. Si teme che la Lombardia debba ricorrere a un altro piccolo lockdown. Il sindaco di Milano, Sala, ha deciso di inviare le forze dell'ordine a fare controlli nelle zone della Movida. Sarà vietato anche l'alcol da asporto dopo le ore 22. Arriva anche un mini lockdown nella regione del Lazio, arrivata all'ordinanza. Per due settimane bar e ristoranti chiuderanno prima. Massimo 4 persone ai tavoli e feste private con non più di 20 persone. Venendo alla Liguria sono 28 i casi in terapia intensiva su 152 nuovi positivi. La maggior parte dei positivi è stata registrata all'ASL 3 di Genova. In Piemonte invece i contagi sono 336 ed è il dato più alto registrato dal mese di maggio. I casi asintomatici sono 219, non c'è nessun decesso ma aumentano i ricoverati. In provincia di Alessandria i casi di Covid-19 stanno aumentando. Per questo motivo il reparto di malattie infettive dell'ospedale Santo Spirito di Casale, che è punto di riferimento per tutta l'ASL, per evitare nuovi ingorghi, ha deciso di trasferire i malati che hanno superato la fase critica all'ospedale Mauriziano di Valenza. È stato allestito un reparto dell'ospedale con circa 20 posti letto. Tra le altre cose questo è un nuovo inizio, un'occasione di rilancio per l'ospedale Mauriziano di Valenza.